Sono chiamato anche oggi, ormai sono diventato ospite fisso, mi ha messo anche contro un spettatore lì, non so chi sia, ma a me non mi interessa, glielo ho detto e quattro. Comunque, se mi vuole chiamare il mio cellulare è sempre acceso, non c'è problema ragazzi, io intervengo quotidianamente ormai, è già il terzo giorno. E niente, se si diverte va bene, io intanto continuo con le mie segnalazioni, domani scrivo al ministero, scriviamo al ministero della telecomunicazione, interessante, ho preso una bella idea, comunque dai ha fatto la figura, ha perso lui, ho vinto io su tutta la linea come al solito. Quindi alla fine lui ha la coda di paglia, perché io gli ho mandato anche la segnalazione dell'Agi e gli ho mandato l'email, come fortunatamente ho pubblicato il video prima e lui non ha letta, capito? Non ha letta la segnalazione, non ha letta la registrazione con la signorina del call center, andiamo avanti così. Dopo pubblico il podcast, al prossimo video tanti salutoni, un abbraccio.